Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle razze aliene sulla Terra. Sembra un argomento, diciamo, come dire, da persone fuori di testa, no? Quando senti qualcuno e ci parlo di razze aliene, sembrano qualcosa di strano, no? In realtà noi non siamo abituati a questo tipo di ragionamenti, però, diciamo, se osservassimo un po' semplicemente anche soltanto gli scritti, gli scritti di tutti i popoli, ci renderemo conto che le razze aliene sulla Terra ci sono state. E non è fantascienza, anzi, da un punto di vista logico-razionale e un'analisi scientifica, è tutto molto meno assurdo, ad esempio, che ipotizzare un Dio creatore che ha creato l'essere umano, mentre invece è molto plausibile un intervento di ingegneria genetica di antichi astronauti. Poi, ovviamente, il tutto fa parte del tutto, per cui ognuno è giusto che interpreti a modo suo l'esperienza in generale della nascita, se vogliamo dire, dell'universo. A meno che qualcuno può interpretare l'universo come qualcosa di sempre esistito. Però, detto questo, tornando a bomba sulle razze aliene sulla Terra, ci sono intanto le testimonianze, diciamo, di tutti i testi antichi. Dalla Bibbia, ai testi vedici, ai testi, diciamo, assiro-babilonesi, sumero-accadici. Quindi, tutti questi testi riportano più o meno situazioni simili. È evidente che sarebbe molto strano pensare che sia tutto frutto di fantasia, anche perché questi esseri avevano caratteristiche molto simili. Ad esempio, troviamo abitudini simili tra gli esseri, diciamo, descritti nella Bibbia e quelli descritti nei testi omerici, ad esempio. Dove vengono descritti e vengono descritte le caratteristiche degli dèi. Quindi c'è tutta una letteratura, diciamo così, antica che rimanda alla presenza di esseri presenti sul nostro pianeta, esseri in carne ed ossa. Certo che poi magari venivano anche identificati come divinità da alcuni popoli perché i poteri erano molto più grandi. Cioè, noi oggi potremmo identificarli come divinità. Noi oggi continuiamo a credere a questa situazione. Quindi gli esseri, gli antichi astronauti, non erano esseri divini o esseri di luce, ma erano esseri in carne ed ossa. E molto simili, umanoidi. Gli antichi Veda ne raccontano di 400.000 specie umanoidi presenti nella nostra galassia, molte delle quali razze aliene hanno visitato la Terra. E poi c'è tutta una vastissima letteratura che riguarda le persone che sono state contattate in tempi moderni, diciamo così. Molti contattati che hanno, diciamo, avuto dei contatti diretti con extraterrestri, contatti di abduction, rappimenti alieni, riportano, diciamo, testimonianze simili. E vi sono quindi diverse razze aliene che, diciamo, alcuni contattati hanno descritto molto simili. E sono molto simili anche ai racconti dei testi sumericadici e dei testi biblici e dei Veda. Tra queste razze troviamo i rettiliani. I rettiliani che sono i lucertoloni, diciamo così. Quindi umanoidi, ma però, come dire, sotto forma rettiloide. E probabilmente anche l'aggressività del rettile. Il carattere rettiloide è anche presente nell'essere umano. Noi abbiamo un cervello, il reno encefalo e il midollo allungato che ci dà le caratteristiche del rettile. Quindi i comportamenti rettiloidi sono presenti anche negli esseri umani. Questi esseri, i rettiliani, sembrerebbe provenire, anche qua, da analisi di testi antichi, dalla, diciamo, dalla stella Alfa Draconis, per cui sono anche chiamati draconiani. Non sono, da come vengono descritti, esseri positivi per l'essere umano, anche se sembra che controllano direttamente molte nazioni, perché probabilmente quelli che presenti sul pianeta da diverso tempo si sono negli anni, in qualche modo, ibridati con l'essere umano. E quindi ricoprono, diciamo, posizioni di potere, soprattutto in alcuni stati. Ad esempio si dice che l'America sia rettiliana, come controllo. Poi vi sono i cosiddetti grigi. I grigi sono, per dare un'idea, un po' simili alle T, quindi con la testa grossa, piccolini. Molti di questi sembrerebbe che non siano neanche, che non siano nemmeno, diciamo, che siano esseri clonati, quindi degli androidi, privi di anima, comunque con molta intelligenza e tecnologia. Sembrerebbe che, nella famosa caduta di un'astronave aliena, Roosevelt, nel 1947, avessero trovato dei cadaveri dei grigi. E sembrerebbe che in quegli anni di i grigi comunque ebbero dei contatti con vari presidenti degli Stati Uniti, fornendo anche tecnologia in cambio di possibilità di sperimentazione genetica sugli esseri umani. Poi, tra, diciamo, le razze aliene presenti comunque sulla Terra, in qualche modo troviamo quelli che vengono chiamati i Pleiadiani. I Pleiadiani, che potrebbero essere gli Elohim, hanno carnagione chiara, sono alti, molto simili agli esseri umani, e vengono anche chiamati nordici. I Pleiadiani, che dovrebbero arrivare dalla costellazione delle Pleiadi, hanno, diciamo, dei contrasti. Sembrerebbe molto forti con gli Elohim e anche con i Nefilim. I Nefilim è la razza dei giganti, altri 3-4 metri. Anche questi citati nella Bibbia. Nella Bibbia vengono citati i Nefilim. Nefilà significa, tra l'altro, Orione, per cui si ipotizza che i Nefilim, i cosiddetti giganti, provengono dalla costellazione di Orione. Dalla costellazione di Orione e soprattutto dalla cintura di Orione, dalle tre stelle che fanno parte della cintura di Orione. E poi, tra le, diciamo, le razze aliene più evolute troviamo i vegani. Il nome è simile a quello dei terrestri che si nutrono, diciamo così, in modo vegetariano, anzi vegano, appunto. Ma in realtà qua dipende dalla provenienza. I vegani provengono dalla stella Vega. della costellazione della Lira. E sembrano essere comunque discendenti di altre razze sempre della stessa costellazione della Lira che sono gli Arturiani e gli Irani. Quindi queste razze assieme ai Pleiadiani hanno fondato, dicono che sia stata fondata una federazione intergalattica. Questo lo dicono molti contattati. Ecco, non è che, come dire, me lo sto inventando, molti contattati danno questa spiegazione dell'esistenza di una di più confederazioni galattiche e spesso il contrasto tra loro. Ad esempio tra gli Irani e i Pleiadiani non corre buon sangue, ci sono state delle lotte. Nella stessa Bibbia vengono citati anche episodi in cui ci sono dei combattimenti. poi abbiamo gli Anunnaki che anche questi dovrebbero aver mischiato il loro patrimonio genetico con quello degli esseri umani. Assieme agli Elohim Anunnaki e Elohim potrebbero essere simili però potrebbero anche avere delle differenze. Gli Anunnaki descritti nei testi sumeracadici secondo alcuni si trovano sul famoso pianeta X diciamo, Nibiru che ha un'orbita attorno al Sistema Solare attorno al Sole di circa 3600 anni e quindi anche loro possono avere diciamo sono molto simili agli esseri umani infatti Dio li creò loro immagini e somiglianze e quindi hanno noi abbiamo parte del loro DNA probabilmente e in queste federazioni diciamo galattiche ci sono questa federazione ci sono delle situazioni ovviamente di ostilità perché comunque questo viene citato anche nei testi buddisti nascere nel reame degli dei cioè rinascere nei reami nei regni più evoluti non non significa che gli esseri siano illuminati anzi paradossalmente può darsi che proprio la struttura umana la configurazione umana faccia gola a molti infatti ci sono persone che studiosi come ad esempio Corrado Malanga che parla di un interesse degli alieni per gli esseri umani dal punto di vista animico cioè secondo lui molti molti alieni non hanno la parte animica e quindi in qualche modo cercano di defraudare l'essere umano di questa parte quindi sono cose comunque interessanti quello che volevo sottolineare che il nostro il nostro universo o multiverso è talmente vasto talmente complesso con dimensioni che probabilmente neanche conosciamo e pensare che siamo gli unici abitanti di questo condominio infinito è assurdo poi ci possono essere anche dimensioni salti evolutivi diversi salti quantici passaggi da dimensione alle altre da una dimensione a un'altra noi siamo qui per fare esperienza facciamo l'esperienza e se un giorno interremo io spero in questa vita diciamo in contatto con esseri di altri mondi dovremo cercare di avere possibilità di imparare e accettare la cosa secondo alcuni non dovrebbe mancare molto per il fatto che anche ad esempio il Vaticano si sta interessando il stesso presidente Medejev ex presidente della Russia Medejev e lo stesso Putin hanno in qualche volta lasciato trappelare dai discorsi la possibilità di incontri con con israeliani che probabilmente in qualche modo hanno avuto e quindi queste sono le razze principali aliene presenti sulla Terra bene per questo video è tutto mi raccomando iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao